Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Come vedete, mi trovo su Geeks System. Ebbene sì, finalmente ho trovato il tempo di installarla e di muovere i primi passi con essa. Chi segue il mio canale da un po' già sapeva che sarei finito per affrontare questo passo, ma si sarà sicuramente anche accorto che ho tentennato un po'. Perché ho tentennato? Beh, innanzitutto perché ho un mio personalissimo workflow che non intendevo cambiare e poi perché immaginavo benissimo che una distribuzione così unica nel suo genere come Geeks avrebbe richiesto un sacco di tempo per capire come funziona. Quindi ero un po' entrato nell'ottica per cui se una cosa non è rotta è meglio non ripararla. Tuttavia Geeks mi ha attirato tantissimo e continua ad attirarmi tantissimo per via delle sue feature. Le feature che interessano a me in modo particolare sono due. Ma per capire un po' di cosa sto parlando facciamo un passo indietro e parliamo delle distribuzioni che ho utilizzato fino adesso. Allora, le distribuzioni che piacciono a me sono Minimali e Rolling Release. Minimali perché parti appunto da una base minimale, installi solo i pacchetti che vuoi tu e poi effettui tutte le configurazioni del caso per come vuoi. Mi sono sempre detto, ma non sarebbe bello dopo aver effettuato queste configurazioni ritrovarsene già preimpostate per una successiva installazione? Non sarebbe bello insomma avere la propria distribuzione GNU Linux già preconfigurata, ma preconfigurata per come vuoi tu? Ecco, proprio ciò è quel che si può fare tramite Geeks. Poi Rolling Release. Sì, mi piacciono le Rolling Release perché le installi solo una volta e poi le aggiorni di continuo senza mai passare da una versione all'altra. Ora, lungi da me dire che le Rolling Release siano instabili, però può sicuramente succedere che un aggiornamento ti vada a rompere qualcosa. Sapete, sul menu del bootloader, sul menu di Grab, abbiamo diverse versioni del kernel. Se l'ultima versione del kernel non dovesse andare, possiamo sempre avviare una versione vecchia. Bene, quanto sarebbe bello avere un sistema per cui è sempre possibile accedere non solo ad un vecchio kernel, ma all'intero vecchio sistema, bene, proprio ciò è quel che permette di fare Geeks. Ma bando alle ciance, direi di cominciare mostrandovi un po' le configurazioni che ho effettuato nel giro di una settimana, quindi badate bene che siamo ancora agli inizi, per poi darvi un po' di consigli nel caso in cui vogliate avventurarvi anche voi con Geeks. Allora, ingrandisco un po' il terminale e vado sul file slash etc slash config punto scm. Su questo file è possibile praticamente configurare qualunque cosa. Allora, come vedete abbiamo una sezione Operating System con diverse sottosezioni, ad esempio locale per impostare il locale, appunto la lingua, poi Time Zone per impostare il fuso orario, Keyboard Layout per impostare il layout della tastiera, Host Name per impostare il nome della macchina, e quindi come vedete sono delle impostazioni che vai a configurare quando installi qualunque distribuzione GNU Linux. Qua, una volta configurato su questo file, te le ritroverai già preimpostate per una successiva installazione. Poi ho voluto inserire anche un bel messaggio di avvio, quando si avvia il sistema mi ritrovo il benvenuto, benvenuto questo è il tuo sistema operativo. Poi abbiamo il file sudoers, per chi non lo sapesse il file sudoers è il file con tutte le impostazioni di sudo, quindi ogni volta che utilizzate sudo ed un comando, sudo andrà a controllare quante sono le configurazioni sul file sudoers. Poi ancora abbiamo il file Hosts, poi l'utente. Ecco, che sia chiaro, una volta scritto qua il nome dell'utente, i gruppi a cui appartiene, magari una volta datogli anche una shell di default, bene, su una successiva installazione non dovrò nemmeno creare questo utente, verrà già creato in modo automatico, dovrò solo dargli una password ovviamente. Bene, poi ho la lista di tutti i pacchetti che ho installato, su Geeks è possibile installare i pacchetti come semplice utente, senza poteri di root, senza sudo praticamente, ma ho preferito installare i pacchetti sull'intero sistema, ritrovarmeli quindi su questo file per successive installazioni appunto. Vado in basso, ecco qua parte la configurazione dei servizi, dei servizi avviati al boot. Ho abilitato il servizio di CUPS, il server di stampa, poi IP tables per il firewall, quindi da questo momento in poi non dovrò mai più configurare il firewall per come lo voglio, ma è già preimpostato. Poi, va bene, ho optato per Slim come login manager, di default ci sarebbe GDM, però non andava al caso mio, quindi l'ho cambiato. Con autologin, preferisco effettuare l'autologin, senza inserire la password, tanto inserisco già una password per decryptare la mia home, che è decryptata appunto. Poi cos'altro? Va bene, con sysctl ho cambiato il valore della swap, della swappiness, e poi abbiamo le configurazioni del bootloader. Allora, come bootloader o grab, installato nel master boot record, perché ho un sistema BIOS, un vecchio sistema BIOS, con tabella delle partizioni DOS, come vedete qua, potete leggere parabola, quindi ho ancora un dual boot con parabola, nel caso in cui non sapessi come effettuare qualcosa su GIGS, posso sempre avviare parabola. Poi ancora gli argomenti passati al kernel, poi ancora la configurazione dell'area di swap, la configurazione poi dei diversi file system, ad esempio della home, della partizione root, eccetera. Bene, questa è la mia configurazione, diciamo che ancora vorrei fare molto di più, ma non è assolutamente facile. GIGS ha una curva di apprendimento molto alta. Se anche voi volete cimentarvi in questa impresa, beh, io vi consiglio innanzitutto di provarla su macchina virtuale, o quantomeno su un computer che non utilizzate, su un computer secondario. Poi, in caso di bisogno, in caso di aiuto, potete rivolgervi alla chat IRC di GIGS, saranno molto rapidi nel rispondervi, dopodiché posso sicuramente consigliarvi di non essere assolutamente tirchi con le dimensioni della partizione di root. Allora, vi mostro che nel mio caso siamo già a 21 giga usati da GIGS. Allora, se fossi su una distribuzione tradizionale, saremmo probabilmente su massimo 9 giga, credo. Fate conto che installo pacchetti minimali, insomma, non ho un desktop environment. Sì, certo, ho installato pacchetti come LibreOffice, come Gimp, come un browser internet, ovviamente, ma di solito mi sto su uno spazio abbastanza ristretto. Quindi, non siate tirchi, ma moltiplicate il valore, questo valore, che trovate nel vostro caso, per un fattore di boh, fate voi. Perché GIGS occupa più spazio? Beh, come detto, ogni volta che si cambia qualcosa sul sistema, ogni volta che c'è un aggiornamento, i vecchi pacchetti non vengono cancellati, quindi ti ritrovi installati le versioni vecchie e anche quelle nuove. Per questo motivo, andrai ad occupare sul disco molto più spazio. E certamente, non vorrete essere costretti a cancellare le vecchie generazioni che utilizzavate il giorno precedente, ma il bello di GIGS è tenere diverse generazioni e cancellarle eventualmente poi dopo mesi, insomma, dopo che sei sicuro che tutto vada bene. non abbiamo detto che GIGS è una distribuzione 100% free software e raccomandata dalla Free Software Foundation, quindi compatibile solo con un certo tipo di hardware. In realtà, ci sarebbe il modo di ampliare i canali ufficiali da cui scaricati i pacchetti e quindi di rendere GIGS anche compatibile con un hardware che non è compatibile con il kernel Linux libre. In realtà, su GIGS puoi rendere GIGS una distribuzione non 100% free software, ma in quel caso potreste rivolgervi anche a NixOS che è molto simile a GIGS ma non ha lo scopo di essere 100% free software. Va bene, non mi viene in mente nient'altro per ora, quindi io vi saluto. Ciao da Clarintux.